ciao a tutti come qua facciamo continuiamo a renderlo in dolce ah ciao ciao franco come va? ho dato la cave del giochino a Federica che la voleva dove sono? ah le dice no 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 ah ma i giochi amati sono il tempo fino a mezzanotte di oggi metto il vigore massimo è questo che è meglio poi è come fantasma è come fantasma è come fantasma è come fantasmi animi nel comandito col gioco di andò togliere la spada mette lo scudo eh si piacciono quei giochi che piacciono eh non ho pc su col b a cavoli ah è un po' fare entrare da telefono non si può guarda lo scudo ok a posto pazienza in caso ricompo Christian gaming gli paghiamo poco quelli ok c'è due posti da andare allora potrei già andare a fare finire il gioco ho visto una guida quello che voglio fare qua ci sono i boss due boss da uccidere faccio un po' il foglio da completare eh il problema è collegare un più sotto e gli altri appengami dalla musica ah non ci riesce ok ok ah mannaggia ah perché una volta era solo amazon vero una volta riuscivo di scattarli da quanti anni in vacanza io che la solo amazon per quello cioè una volta non c'era ubi sotto le cose che dovevi collegare la roba è un po' lì c'è che vogliava sul castello Quinto passo Ah 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 Uh caga Oh Aiuto mi picchia Arrivati i principali Dov'è il telefono La tristica bimba è usa il telefono per l'assassio Ok Ah ah Non aspettavo questo potentone Aiuto Azzalora è un po' forte qua Guardo io Ok ciao Franco grazie per essere passato Ciao Sono molto malissimo Sto pensando di andare Alla fine E poi ragazzi Ah è già guardato No Molto carico Ah no Per forse io No E poi Non 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 Che Che poi No 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 Come on Ok Hmm You know Oh Yeah Oh 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 no buona sera un falo un falo un falo mi fa riprendere qua un falo 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 no chi è? e tu che sei? oh guarda il sole, prenda il sole e il sole a l'indicato è il sole donna vita le ossimini amate non è altro la figlia un cammello non è sottotitolando qui sono sempre di farlo non riesce la cosa è che sottotitolare la mia sottotitolare no scudo come niente ma guarda che la c'è lì, la morte qua sotto ma guarda che Sì Oh cazzo Questo mi fa il curo Uca C'è arrivato Ma vaffanchiacolo Mi scurano Il finge di armi Noi, Tony, oi. Grazie. 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 Che skill. Che skill. Che skill. E' Uketa! E' un po' difficile. Massa! E' una farina che mi mostra. ... ... ... ... ... 60.000 anni 60.000 anni 60.000 anni Non è vero, non è il domaine di ragazzo di uomo. Il uccionamento di pezzi è il primo pezzi di cardinali. E tu sai che hai chiesto potere del ruo di morte? Il ruo di morte passa per due nomi. Il resto è il destino morte. La scuola di scuola di l'ordine di l'ordine di sua creazione. Percibare il rumore ora, sarebbe incredibile. I fiumi non sarebbe mai permesso, e non sarebbe la grande wille. But here we are. The fingers dormant, severing our link to the greater will. The realm and all life in ruins. Impossible events transpire beyond the ken of the fingers. Who is to say that the cardinal sin must be cardinal forever? Go on, finish the job, take the course you deem most worthy. Ah, come in Buchanan's feeling. You must find kindling. Only the smoldering flame in the great forge of the giants on the highest peak in the lands between. And burn the earth tree. But special kindling is required to reignite the flame. For the flame to burn the earth tree, a sacrifice is needed. Of one who envisions the flame and can lead you to the ruin of death. You must find kindling is required to reignite the flame. For the flame and can lead. Now, go forth, let the wo... Huh? Hmm? What do you think? ora andiamo ora andiamo lasciate le parole del film Poi... E' il conno che c'è, invece. non è un'intera aperta ok, voglio andare la ancora è all'albero questo voglio andare a seguire forte l'alba non puoi andare a potenza ho sbagliato vieni buona vieni qua aia porco cane, si è potente questa alma oh, vieni qua vieni qua che tizio che spara non è qua, penso che è qua ma dov'è? ci sono i topi no 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 Questa è l'imparata nell'abitudine. Mmm, mi piace. Sette. Eh, poi c'ho capito dove c'era. Posta torna ancora qua. Allora, continuiamo ancora di qua. Allora. Allora, continuiamo. Allora, continuiamo. Allora, continuiamo. Allora, continuiamo. Allora. Allora, continuiamo. Allora, continuiamo. Allora. Allora, continuiamo. Allora, continuiamo. Allora, continuiamo. Magix. Allora, continuiamo. Allora, continuiamo. Diین. Allora, continuiamo. Allora, continuiamo. ma figli di un cammelo tanto su quale anima prima da picchiare quelli sotto per quelli sopra prima do picchiare questi piccoli eeeh il betamaki pula che ma figli ma figli ma figli ma figli ma figli ca c'è e spaventato Aspetta bestia che arma che è la mia due colpi no mazzo ah non posso stare imparato potta vada Alla bel giacca Alla bel giacca Curati Ambarca Abbedito Aiuto Ambarca Ho sbagliato Tutta la mia vita Ma porca di Quella Mica E fatica Una spaglione Ma porca di Ma porca di Ma porca di Ma porca di Atchipos Oh 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 Pucca attacca Oh 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 No Oh 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 Ah, io ho fatto accolere. ... ... Sì Eeeh la mamma Eeeh Babbà fang Chia Fogu Eeeh Eeeh Babbà fang Chia Chia Eeeh Chia Babbà fang Chia Chia ma cazzo ho fatto la cacciata del secolo vaffanchiappolo ho capito quella cazzo persone anime non ho capito dopo vabbè praticamente non è mai penso parte 5.000 anni non è mai non è mai Grazie a tutti 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 Bene 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 Grazie a tutti 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 Seconda parte Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sto pensando Grazie a tutti 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 Nooo per ilo sia delicato per il mio perdito si chiedza per il amore qui mi sento? Il che con il flamore un giorno a un giorno a un giorno a un giorno Stavo guardando che tu fai mandato, ok Ti vedo interdetto, si Sono l'endgame La parte finale No perché sono rimasto male Che vera tizia Vabbè La parte finale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che gaffo. Scusa, di qua è uguale? No, lì c'è proprio il vuoto. Non posso meno che palla. Ok. Perché da cellulare non si può. Si vuole, si fa più fatica da cellulare. Eh, va com'è fatta difficile. Ok. Mi sono saltati su giù. Oh, si sa. Andiamo a fare un fallopo. Questa roba è inquietante. Questo roba. È inquietante? Sì. Vabbè. Andiamo avanti. Oddio, questi mob sono antifacili. Oh, wey. Che non posso neanche far armi con questa arma. Ah, mi si è tolta. Aspetta. Mi si è tolta due mani. No, no. Ah, sei da PC. Ah, sei paura di farti autospawn. La cellulare è più complicata fare la clip. Devi salvarla, poi devi mandarla. Invece... La PC la fa così. Oh! Per poco ne ci... Ne... Manevo. Aspetta, usiamo questa. Mi potenza un po' l'arma. A proposito. Questo non serve più. Perchè è cementato quell'ovo? Così chiaro è stato l'ovo parato. Ah, non ce ne ho. Perchè è stato l'ovo parato. Perchè è stato l'amico mio. Ah, ok. Ho visto come si chiama l'ovo. Oddio, questo l'ovo qua non mi piace ben niente. Questo chiamò il cavallo, no? Quando scopre. Ecco, sapevo che io... Anzi lo scrivo, ah. Lascia a prenderlo. Via, stai schizzo di cacca. Ehi, è il betamati. C'è un dago. Piccolo dago. Via, via, via. Più. Sono in safe. Credo. Ah sì, c'è un qualor. Sono in safe. Ah. 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 Cosa vuoi prendere quel bus? Maledizio, il dago. No, no. Lasciamo perdere. Salve. Come sta? Qui bus. Cos'è questo? Ok. Interessante. Ah no, ho preso i pezzi da solo. Per il mio pc. Ho preso i pezzi da solo, poi l'ho fatto montare da... Un negozio. Guardate, non c'è... Adesso ha chiuso il negozio. Non mi ricordo dove ero andare. Ah, di qua. Eh, no. Io sono arrivato da qua. E devo andare di qua. Ok. No, no. Non lo sono montato. No, l'ho fatto montare da... Dal negozio. Perché non sono capace. Montato solo la scheda video. Quella nuova. Salve. Salve. Sto guardando sotto cosa c'è. C'è la morte sotto. Troppo alto per buttarmi. Qua c'è il buco. Ah no. Penso che c'era un buco. Non c'era un buco. Ok. Penso che è abbastanza caro per montarlo. Qua c'è il buco. Ho capito dove sono. Dai, chi ha scritta. Ok. Stavo tornando indietro. Sei come di yoga. Oh, cazzo Buonasera Oh Oh, uno alla volta, dovete prendere il biglietto Ma guardate, sembra Oh, cazzo Curate Ho fatto una cazzata, invece di indietteggiare dovevo avanzare Così avrò più tempo per curarmi Perché a me mi è l'istinto di schivare di indietro Invece dovevo schivare in avanti Eh sì, proprio la zona, l'ultima zona Questa Sì, ho visto una mappa Ah, può sembrare anche sopra il tetto So che devo recuperare le anime 20.000 dollari 20.000 dollari di anime Ho preso qualcosa Eeeeeee Mannagina Ho preso le anime e mi sono arrivati In 40 addosso Mi facciamo Ehm Ero 25.000 anime Mi facciamo Ho preso le anime e mi sono arrivati in 50 E' lì che mi aspettavo A A Su le anime, praticamente Davvero che non ho messo questo potere Amici Amici con questo potere mi trovo di meno Amici con questo potere mi trovo di meno Mi faccio un pochino anche più male Amici con questo potere mi trovo di meno Io non ho messo C'è un' pure te oh quello che lancia i fulmi adesso voglio vedere cosa c'era sopra il tetto se potrebbe andare non ci avevo fatto caso non mi ricordo dove è il tetto ah ci arriva è arrivato il tetto è la peppa senza temi in anime mi che butto mi ha fatto vedere la faccia vicino 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 e butto 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 ma butto 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 salve mi mi ah ecco perché mi fanno la guati perché vengo da qua oh yeah ho scoperato le anime torniamo indietro la farò voglio andare sul tetto dove era tex spaccati i vasi non era qua no qua c'è il tizio che mi fa male il tetto era a queste parti lo vuoi stupire ah si giusto di qua però sul tetto ho paura che escono i dagli il tetto sarebbe qualche setto qua vediamo cosa c'è ah ho fatto il giro non c'è va niente ah c'è un montacariche non l'avevo visto qua andiamo ah va penso che era l'otto mi come veloce sento qualcuno che sussurra è inquietante sull'uovo ah qua posso andare su? o muoio? poi è un'arena cazzo e non posso più tornare indietro ah ho col teleporto andiamo all'arena a combattere quanti anni ho? 40.000 fammi fare i cari andiamo cerco a saltare eh mamma mia per poco non cadevo giù di sotto arena chi c'è che c'è da combattere qua? aspetta ok ah un dago gigante aia potrò mettere l'anello antidrago che ce l'ho che fa che non danno un detto troppo forte un po' beve con la mia portata mmm adesso mi riesco a prendere gli animi senza morire adesso vogliamo senza far scattare la tappola del nemico ma che ci ma che questa è sfiga eh ho picchiato il pad il gadino eh non si vabbè ho preso 30.000 anni oh annaggia annaggia l'opulanta ma peccato il gadino non sono uscito colpillo ah dai che sia ma dai non vado sul tetto che loro impressionate c'è solo questo luogo qua sul tetto giù di qua cosa c'è quantità che ci sono in cielo vieni mi ha visto vieni micio 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 è nascondito il gioco micio micio eccolo micio 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 Ok. Per poco non mi ammazzava quello. No, prima facciamo questo lato. Lato sinistro. Sinistro? Sinistra. Sì, tutto, sinistra. Oh, porco cane! Molto. Vabbè, è facile. Continuo a morire. Ehehehehe. Au, aga. Mh, ma neanche i peperoni. Così? Cosa! 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 salta brava prendo niente e mettono indietro oh betamatics, mi ha fatto appena un corpo oh 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 mamma mia che escivata ok mannaggia questo fa le magie ah che sudata mi fa sudare sto luogo è bello tosto grande cavallaria se può portare a per potenziali anni adesso lo scendere andare passare per il farò 15.000 15.000 ok mi ammazziamo quelle una alla volta come ho fatto prima non devo andare in mezzo ma andare URA LA PERIFERIA mi sono spaventato non mi ricordavo che c'era quello no 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 Ah che silenzio E la quitta prima davanti Tempesta Tempesta No ha sbagliato Il consumo di energia Non togliere quella cosa Mamma che miss Mamma mia che schifazzo ho fatto Ho detto che ce n'è uno dietro di me Eh si C'era Boh Mi che fatica Eh guarda che ci sono i fottentoni nascosti dietro i pali L'ho visto dietro le colonne Ah no Ammazziamo quel fottentone nascosto Ma guarda l'altra colonna c'è un altro dietro Ah no Ma qua non c'è Qua c'è una porta Un falo Un po' una cosa però Mi dobbiamo provare se posso tornare alla tavola d'autore Così faccio una pausa Ah si che posso tornare in posto anche qua No Mi dobbiamo provare se posso potenziare qualcosa Vediamo un po' Ma qua è a posto Ah ce n'è di quella giusto Non dobbiamo cambiarla Non so che mi succhi a NG a quella cosa Dove è la spada Una spada Ma non c'è boh, non la trovo dove la toglie per potenziare la cosa qua, la luna ah è vero ora che ho parlato con quella tizia, vediamo se parlo con questa tizia cosa cambia ci sono eh, anche ecco, si si ho tornato un attimo la base spero, la caccia, perchè non me l'ho capito il dottore li toglie però, cazzo allora mmm che bello, una spada, poi non so se sono potente ah non ho ancora la endgame sto guardando i pezzi ah che, i pezzi vediamo se sono potente per mettere no, penso ancora no, no no non va bene ancora non va bene ancora vediamo se posso potenziare la spada qua ah no qua ma non c'è più la tizia ah 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 è andata via eh perchè c'è niente anche qua è andata via sto rimanendo solo praticamente man mano che avanzi nel gioco vanno via i personaggi ho detto mannaggia dottora aspetta, magari c'ho la chiave adesso adesso voglio far andare qua non so che non mi ricordo come si fa andare lì aspetta, forse sono andato da qua quel attore non mi ricordo la strada per l'attore intanto un palco un tizio qua che c'ho qua che forse c'ho l'oggetto che gli serve si ah ne vuole ancora ah mannaggia uuuuh c'è quello uccito dalla bestia ok ah adesso può uccidere sto boss che c'ho qua ma c'è il falopassi adesso che sono più forte no te non fai i gesti di... dietro... dietro forca vacca si è incazzato ah oh un ah il rumore è che se lo ha liberato praticamente ora combattiamolo ah devo decidere se lo posso uccidere me lo lascio vivo non può lasci più mi sono catati in mano dalla mia evocazione vediamo che dobbiamo combattere questo qua un altro boss mi piace forte oh ma sei impazzito beh essere forte si aspetta cambiamo tattica aspetta un'altra tattica il resto non da andare da quello se non si sveglia non mi picchia cambiamo tattica cambiamo tattica bello ho mancato lo prendo da dietro faccio picchiare da quello da mio amico non 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 è vero che ci sono fatti mi ha svolato più forte ma quella non mi ha portato ahia che va bene No, è troppo forte. No, è in alto posto. Come si faccia andare là? Mmm, guardami la guida. No, 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 no. E continuiamo qua. Continuiamo di qua. Dopo la live guardo la guida come si fa andare là. Non mi guardo. Non mi guardo. Non mi guardo. Sì, non mi guardo. no che cacco cato, vado dire cacco bababangu cammello ha agganciato una bomba storica io che ho dovuto cambiare il pannolino se avessi di dire cado ho detto cacco però per cadere di sotto mi hanno ammazzato i nemici non ho affatto ci hanno pensato prima loro una bomba è tonica miiii che paura aperto aperto ma porca cacco non ho visto la vita nooo aaaah non si quanti anni meno vinti vida mannazzo sento che è difficile sento che è difficile sto luogo mi voglio sapere chi è il boss di sto luogo ah no 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 non non no non mamma mia non 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 Oh mamma il pezzone Quello che stira l'alta Quanto ce n'è Oh, basta nemici, pietà Dove, dove, dove pensare al gioco Ma poi dove saltare qua A duken A duken Ora, dove devo andare Per andare, dove bisogna andare Non c'è niente qua Ah, qua c'è la stada C'è la stada del bosco Non è un bosco questo Che pizza che si sentiti Che con l'alco mi beccano A duken Besti acce Oh cazzo Ah, fanchiappolo C'è la stada del bosco Non c'è la stada del bosco un fai no uh mi che fatica Dov'è la strada? Tu guarda qua Qua scelta qua Una fascicchia la morte C'è il pizzi pizzi Ah gioco Ho trovato la strada Qua sceltaugs La racita Pec Che puttazona Salve Lei come sta? Oh, ho spento la luce, sono andato solo al coso La faccia nostra che va giù La salda va su, la salda va giù C'è qualcosa che farò Continuiamo a scordare Trocca il segno di vocazioni loro Dissendente per l'arte Trovate un amico Ah, mi sa che c'è un boss Andiamo su però Finiamo il piano Ciao Ciao E' un NPC del G Ecco questo qua Continuiamo di qua, eh Ma ha più di scarzi qui Ah, eh sì Ho visto che c'è un sasso che lo... Rotolavali Ah, lì c'è il boss Però è difficile arrivarsi da qua E c'è pure il custode del boss Un cavaliere Non ci arriva da qua Perché c'è il salto Da fare un salto enorme Non ci arriva da qua Ma non ci arrivò Un'altra Di sol Un'altra Un'altra Di sol Un'altra si può andare giù qua? oh c'è una morte io vedo che c'è gente proviamo c'è una scala qua oh mi che paura fa troppo paura è inquietante boss 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 oh oooohh bitammatic ma no cazzo non ho non ho visto la mia vita mannaggia i peperoni ma come si fa andare il ducco andi qua ah va anche vicino ah è qua l'amico no dove si convocava l'amico l'amico che mi aiutava ah la giù di qua ma dove era ah è qua ce la vuole davanti ah qua ce la posso fare ah non è finita Sì. 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 Davanti a quel mio amico... Ma perchè non riesco ad entrare nella stanza di piva? Quella che non capisco. Sarci il dirlo... Ah adesso si si può. Prima non mi faceva entrare... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Dai, 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 dai Ahi qua No Ahi qua Ahi qua Ahi qua Eeeh come fai? Devo uccidersi I fettentoni Non ho capito è facile arrivare qua Non stare qua Non ho capito 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 Ahi qua Ah è vita quello Non ho capito 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 Da erano Qua c'è la morte ah no Ed ho capito no ora che è ma non si curava mannaggia flip si ho schazzato la x per curarmi dove è la strada adesso basta vedere dove ho perso le anime di qua no non era qua ma quanto danno che fa questa spada e ho pi e ho pi ah di qua era oh di che mi colpisce ma guarda te ma dai che son dietro la cosa niente oh ma guarda te eh ah si ho visto che la stamina va giù a manetta si che là c'è oh stavo cadendo tutto ah è adesso aperta io devo andare in cui dove c'è quella porta vedi ho capito che devo andare là ah ma lì sotto c'è una scala una scala poi non mi ricordo come si fa andare su questa tolle qua ahi oh qua a potenziare non dare a fare la cosa della 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 luna del boss e non so che non mi ricordo come si fa andare lì vabbè ah qua c'è una scala lol eh mi son buttato prima ah mi si è arrivato qui ah non posso darti un lì nemmeno io ok lol non è di qua allora primo porto volò alla strada non so se vale come è parata qua ancora provata dice che non si può pararsi con quest'anno mi han detto si è leggermente vabbato mi ha fatto volare fuori dalla finestra oh fermati ok non mi lagare se mi fa cadere di sotto cammino piano oh che ora sta là qua eh non mi va avanti oh ah la mia omba vabbè oggi potesimo mi ha fatto squirare dove ti può vallo lag lag eh si c'è lag ah ok oh merda oh si cani sto guardando cosa c'è qua ah là c'è roba che è sto rumore sarà il vento eccolo quasi sono quasi alla fine si può andare ah cazzalona non dimmi che devo saltare aspetta no per prendere quel loot devo saltare aspetta vediamo eh non lagare puoi fare a prendere quel loot no non puoi saltare è troppo lungo no 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 vaffanchiappolo ma magari da sopra dove fai a prendere quel loot sono dietro di te non jump sopra il muro no mmm dici che devo saltare là fatto la mia vita non c'è prova massimo eh aspetta dovrei togliere il peso aspetta che provo una cosa questo è per colla e per saltare ok sono fatta oh andiamo qua sono fatta mettiamo la spada come dove l'ha messa ah fino a livello 9 un po' e poi dove devo cercare le cose del dago per potenziarla ce l'ho fatta c'è un faro o sbaglio ah no aspetta devo mettere due mani bello non mi salto penso che è un faro e c'è una candiera qua mmm mannaggia mmm di qua o di là di qua o di là andiamo no andiamo prima di là eh prova è vero prova ti dico che arma è vedi questa devi potenziare la fila a livello 9 provo di mettere questo l'anello dalla stabilità mi hanno detto e cosa per mettere ricarica ah che beve si si beve c'è qua l'acqua ecco e anche io non mi piace le due spade a due mani sto facendo una fatica a combattere però piano piano che a me mi piace spade scuro poi ha detto che questa spada è la più forte del gioco vedo veramente però mi sto abituando piano piano vado i dati che spavento che spavento non curati eh vabbè due volte ma dov'è fermati mamma mia ho fatto prendere un corpo gas folgorante ha fatto usare due cure anche per sbaglio cioè una usata per sbaglio è uscito a dare improvviso quello quello cioè c'era luce praticamente c'era un cadavere con luce no appena uscito è arrivato uno dall'angolo dietro dall'angolo mi ha fatto l'acquato mi ha fatto prendo un gretto non ricordo dove ah c'è qua c'è un attimo è sa niva dada sì andare di qua c'è qualcosa che mi convince ah sulle scale ok ci siamo ora ci siamo paura che viene giù la palla che lottola dalle scale no c'è peggio un nemico è caduto di sotto che sono male ma ma perché ma vedi questo coso vabbè oh aspetta voglio vedere se c'è un falote di qua vediamo cosa c'è aha c'è una cosa che posso usare la chiave non so quante chiave io c'è un molto a cariche vediamo ah sono 7 meno 10 è passato in fetta oggi un falo benissimo allora adesso vado a vedere la 43.000 anime forse posso fare un livello vediamo facciamo i calcoli 67.000 anime adesso faccio forza quelle che ho messo via quante sono allora usiamo 35.000 è esagerato penso che era di meno allora vitalità poi se facciamo vitalità o forza o gestezza gestezza cosa fa le stesse sono un po' basse facciamo gestezza 11.000 mancano 50.000 praticamente ci sono 10.000 qui su 20 no non ce la faccio 100.000 106.000 quantomila no non ce la faccio ho esagerato con quelle rapine ah vero devo provare a saltare sopra la giusto vediamo vediamo se riesco a fare il salto cazzo sono spanate inizio dove è il salto ma guarda questo ah no mannaggia ma mi ha saltato da lì ah no dove è inquattato questo non ho visto era inquattato dietro la colonna mi sa si che si inquattano dietro la colonna anche all'inizio del 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 livello c'erano quelli inquattati non faccio una cosa qua metto la l'antenna li vedo meglio non c'è nemmeno ma è l'altro dove è arrivato oh ah lo sento oh ma sono ma salgo su voglio saltare la non mi fanno saltare voglio fare il salto solo non mi ricordo dove era il pilastro che era il pilastro abbassato contro la noccia non mi ricordo dove era il posto per fare il salto aia ma guarda te noccia noccia Cosa? Sono telecomandato? Ecco cos'è che billava Sono questi che billano Con quanto è un pertello Ma che arma che hanno? Non mi ricordo dove era la colonna Era a saltare Mannaggia La mia memoria Tipo di yoga Questo è raggiù di qua Eh non mi ricordo più Vabbè fa niente Dovevo fare quanto eravamo vista Mai Non mi ricordo dove è qua Forse sono troppo nemici Continuiamo di rapperli in montacarico Che c'era l'ultima Ah no c'è una nastrada praticamente sopra Sono i 7-5 C'è poco stacco Oh cazzo Oh Cazzo Ha un po' l'alito pesante quello Oh Sale Ha un po' l'alito pesante quello Non è che siamo Non è che c'è un po' Non è che c'è un'anime Inquattate Faccio come prima La tiro Non è che c'è un po' Ma qua è un po' più forte Ops Bello Dovesse cantare Ops Si Sono caduto Me l'ho dimenticato Che c'era l'ascensore In montacarichi Aspetta Lo chiamo Perché poi si spenta la antenna Ho fatto un volo All'indietro Calpiato Ho fatto il tutto Un po' calpiato Bello Dai Oh Rifacciamo No Questo Ma proprio Un figlio di Sultana Dove ho ammazzarlo subito L'ultimo tentativo Che sono cotto Forse per qua Non mi riesce Il montacarichi qua Si Oh no Non ci vede Quel buio qua Ah no Ma va Fanchiapro Ma ma Non muo Che è Ma dai Non si cura Si accetto La X Direi Per di No basta Sono cotto Non riesco più A giocare Prendo le ane E stacco Basta Ho esalito La forza Ho esalito La forza Ok Buone stellare Non Beb